Ciao amici bentornati. Continuiamo a parlare del discorso fotovoltaico off-grid, on-grid perché nei commenti arrivano delle affermazioni che io credo di aver già chiarito in precedenti video, invece a quanto pare non è così scontata la questione. Facciamo una premessa nel dire che leggere i provvedimenti, gli aggiornamenti, le risposte del comitato elettrotecnico italiano, le delibere della RERA non è proprio un gioco da ragazzi, nel senso che è molto complicato, bisogna perderci molto tempo, bisogna essere così del campo perché, diciamo la verità, le terminologie sono veramente complicate a volte e quindi io evito comunque di prendere questi test e di leggerveli perché ci addormenteremo tutti quanti seduta stante. Per cui io vi do i riferimenti delle normative, dopodiché vedete un po' di, se volete, se volete approfondire, di prenderle e leggerle e se sono molto tecniche, perché sono veramente tanto tecniche, si addentrano proprio nella materia elettrica, provate a chiedere consulenza magari a una persona di vostra fiducia che sia del settore, che sia un ingegnere elettrico, che si occupi del fotovoltaico, insomma seguiamo le persone che hanno le competenze anche per leggerle queste norme, va bene? Ma questo lo dico anche a me stesso. Quindi vi confermo che dal canto mio e da ciò che i regolamenti dicono, purtroppo, diciamo così, in Italia per il momento gli impianti off-grid in presenza di rete elettrica, non sarebbero consentiti. Vedete le circolari della RERA del 2014, la risposta del CEI proprio sul tema, proprio su questo tema del 2016, e lì troverete tutte le domande. Ma la stessa normativa CEI comunque è abbastanza chiara, ci sono anche riferimenti di leggi europee. Quindi quello che volevo anche chiarire, tra l'altro, è questo. Quando io dico che l'off-grid è illegale, intanto magari non dovrei usare questo termine illegale perché sembra che stiamo parlando di complotti mafiosi, diciamo che è irregolare, ok? Che non è irregolare, nel senso che in presenza di un contatore Enel l'impianto off-grid non si può fare, ma non lo sto dicendo io e non sono neanche, diciamo così, pagato né dal GSE né da nessuno. Sto semplicemente riportando le norme, tutto qua. Quindi dicevo, in presenza di contatore Enel non si potrebbe montare un impianto off-grid perché la normativa prevede che questo impianto, essendo un apparato atto a produrre energia elettrica, sia l'inverter sia la batteria, sono apparati che vengono considerati, logicamente, generatori di energia. Per cui se c'è un contatore o comunque la presenza di rete elettrica nazionale, gli impianti vanno collegati in rete. Cosa succede? Se io ho un impianto off-grid che ho collegato a casa mia e ho messo l'ATS per scollegarmi, ok, dalla linea esterna quando utilizzo l'off-grid, non posso regolarizzarlo perché? Perché dovrei fare la pratica di connessione e nella pratica di connessione richiesta obbligatoriamente la dichiarazione di conformità dell'impianto e tutte le certificazioni CEI dell'impianto perché dovete capire che quando noi compriamo un impianto on-grid, a parte il fatto che è omologato CEI 021, ma ha tutta un'altra serie di test che potete trovare normalmente nel sito internet delle ditte o delle case, diciamo, che costruiscono questi prodotti. Per cui, oltre a quello, ci sono dichiarazioni di come ad esempio l'inverter non invia elementi continui nella rete AC. Prima vi ricordo che si metteva un trasformatore in rapporto 1 a 1, quindi entravano in questo trasformatore al primario prima di andare alla rete, verso la rete pubblica, bisognava a gioco forza dopo i 20 kW mettere un trasformatore in rapporto 1 a 1 che non era né un trasformatore elevatore né un trasformatore in diminuzione di tensione, ma era un trasformatore che non cambiava il livello di tensione, ma serviva semplicemente a isolare le componenti continue che l'impianto poteva eventualmente inviare in rete. Oggi questo trasformatore non viene più messo perché gli attuali inverter ibridi hanno la capacità senza trasformatore di bloccare le componenti continue, ma queste certificazioni le trovate scritte, ripeto, presso i siti internet delle case costruttrici. Come troverete tutte le certificazioni anti esplosioni, anti di sicurezza, c'è tutta una serie di documentazione che l'off grid non ha, ok? E quindi non può essere regolarizzato, però chiunque avesse l'off grid e chiunque avesse la TS e utilizzasse quel sistema, a me non mi interessa niente, cioè vi reputo i miei amici lo stesso, non è che sto contestando attaccando gli amici dell'off grid, gli sto solo dicendo informatevi bene che certe cose magari su internet non ve le dicono e magari in buona fede voi non le sapete. Poi, ripeto, il canale è aperto, se avete qualcosa da dire come vedete io lascio i commenti, l'unica cosa chiedo che diciamo anche agli insulti, vabbè quelli li cancello, però diciamo alle contestazioni seguono poi le specificazioni, cioè voglio sapere esattamente qual è il punto dove non vi trovate, cioè non mi basta che diciate ad esempio guarda non capisci nulla, quello si può usare, mi potete dire anche che non capisco niente, non c'è problema, però ditemi qual è il punto per fare chiarezza a chi eventualmente guarda il canale, gli amici che guardano il canale, per dare le informazioni più corrette possibile, più trasparenti possibile. Quindi vi faccio un piccolo riassuntino, cioè riassuntino non perché voglio fare il professore, un piccolo riassunto di ciò che io voglio intendere. L'impianto off-grid in presenza di rete elettrica nazionale, seguendo le norme, non si potrebbe fare in prima istanza perché quando c'è un contatore elettrico non è ammessa dalle circolari aerea e poi il CEI l'ha comprovato, cioè l'ha diciamo l'ha confermato, l'utente seguendo queste norme non avrebbe questa possibilità di usare la rete diciamo a suo piacimento, in che senso? Nel senso che la rete non la puoi utilizzare come un UPS, non la puoi utilizzare solo quando il tuo off-grid non produce e allora cosa vai? Prendi e prelevi dalla rete. Questa volontarietà in caso di presenza di rete non è ammessa dai regolamenti. Adesso io non vi rimetto i regolamenti, vi li ho già citati, sono la risposta del CEI del 2016, le circolari aerea e poi tutta la legge, la normativa CEI e richiami europei. Andate su internet e li trovate tutti o in un mio video precedente li ho nominati tutti, dal primo all'ultimo. Per cui già il fatto che la normativa non consenta la volontarietà in caso ci sia energia elettrica nella rete, di non prelevarla, questo già ci porta a dire che stop, chiuso il discorso, l'off-grid non lo possiamo mettere. Come? Non potremmo mettere in una casa tipo un generatore di corrente. Qualcuno eccepisce questo, dice va bene ma ascolta ma perché io a casa mia non posso usare allora neanche un UPS? Anche questo qua, anche questo tema, questo tema, questo punto è stato chiarito dalle norme, dalle normative. L'impianto off-grid non è equiparato ad un UPS perché l'impianto UPS, cioè quell'impianto che ci dà energia in caso di assenza, ad esempio ci alimenta il computer, continua ad alimentare il computer ad esempio, non ha il fine di massimizzare il risparmio energetico. Cioè l'UPS ha una partenza autonoma in caso di assenza a rete. Io non decido di far partire l'UPS a mio piacimento. Quello parte per i fatti suoi quando manca la corrente elettrica e si stacca fisicamente anche dalla rete, quindi elettricamente dalla rete. L'impianto off-grid non ha il fine di fare l'UPS perché il fine dell'off-grid è quello del risparmio energetico, quindi il fine rispetto all'UPS è diverso. Quindi la volontarietà di non prelevare o prelevare dalla rete indica proprio questo, che se c'è tensione in rete, io devo prelevare da quello. Se voglio fare l'impianto fotovoltaico, devo mettere un impianto on-grid, certificato con le dichiarazioni di conformità, fatto da una ditta regolare, che rilascerà tutte le certificazioni del caso. Nel prossimo video vorrei rispondere a una domanda che ha posto un amico molto interessante e quindi, va bene, adesso questo magari lo chiudo qua, anche perché non trovo più la domanda, risponderemo a un amico, Domenico Giordano, che ha posto una domanda molto interessante. Quindi nel prossimo video risponderò al nostro amico. Nel frattempo vi mando un saluto e vi chiedo così, qualsiasi commento, qualsiasi cosa, di scrivere pure, io non cancello nessun commento, salvo che non ci siano offese. Ciao!